benvenuti amici di fight network italia da oggi iniziamo un percorso con dei video tutorial che faranno conoscere meglio le tecniche del shinsegai full contact karate e come prima tecnica non potevamo che iniziare con uno dei nostri marchi di fabbrica cioè il kakato otoshi keri vediamo subito cosa significa kakato tallone otoshi dall'alto verso il basso keri calcio quindi calcio che colpisce con il tallone dall'alto verso il basso calcio reso famoso dall'indimenticato andy hug campione del di karate e ovviamente anche del kewan adesso vi faremo vedere delle tecniche base per poi vederle calate in un contesto con un minimo di strategia non appunto Ho poosh! Ho poosh! Ho pushyaah Ho poosh! Ho poosh! Ho push! Ho Water si! Ho butter carica! Ho hoi Lovettori Hoiancieseurata! Hoigerioucinaata! Ho l'abbiamo che il giud немного! Ovviamente la tecnica che avete visto è stata eseguita in maniera controllata per non causare danno al mio sparring partner e la cosa importante è prepararsi adeguatamente per eseguirla nei migliori dei modi, quindi una buona preparazione atletica e ovviamente un'ottima flessibilità non possono che aiutare l'esecuzione del kagatoto shikeri. Ci vediamo al prossimo video tutorial. Grazie.